Effettivamente il chilometro fra le due comunità è zero, ma non solo dal punto di vista fisico, non solo dal punto di vista urbanistico, è chilometro zero dal punto di vista della collaborazione. Noi siamo lo stesso paese in definitiva, abbiamo la stessa etnia, la stessa cultura, i nostri concittadini passano indifferentemente da un paese all'altro per lavoro, per famiglia, per altre situazioni, abbiamo la stessa economia e da tanti secoli oramai queste due comunità sono di fatto la stessa cosa. Quella di questa sera è da un lato un punto di partenza, perché stiamo per la prima volta sperimentando un'iniziativa in Cune, ma in realtà San Giorgio e Corosino, come lei giustamente diceva, sono due realtà che effettivamente non sono divise e in tanti altri ambiti siamo all'interno delle stesse organizzazioni, parlo per esempio del GAL, dell'ambito territoriale, ma anche dell'Unione dei Comuni. Quindi l'idea di questa iniziativa in comune è la manifestazione di un interesse da parte delle amministrazioni a che queste due comunità, pur nelle loro tradizioni, pur nelle loro identità municipali, possano in futuro continuare, anzi ancora di più collaborare per mettere al servizio dei cittadini di entrambe le realtà tutta una serie di prestazioni, di servizi che messe insieme da parte delle due amministrazioni possono sicuramente trovare un grande apprezzamento da parte dei cittadini dei due comuni. Volevo ringraziare i comuni che hanno preso in considerazione le prologo e che credono in queste realtà che hanno il compito di promuovere i territori, quindi hanno creduto non solo nella sinergia e ci hanno messi alla prova con tante difficoltà perché poi non conoscendosi bene emergono sicuramente delle difficoltà, ma la cosa più bella, la cosa più appassionante è quella di far sì che queste difficoltà vengono superate immediatamente. Loro hanno delle peculiarità che non abbiamo noi e viceversa, quindi per noi questa differenza di peculiarità tra un soggetto e l'altro è rappresentato in questa occasione una vera ricchezza. Allora, chilometro zero, proprio come dice la parola, ha due significati. Uno perché a livello territoriale sono stati abbattuti proprio gli spazi, infatti la manifestazione si svilupperà sulla direttrice San Giorgio Carosino, quindi proprio a unione dei due comuni.